Occupiamoci un po' di Inter perché ci sono notizie sicuramente positive, la classifica, l'Inter ormai è avviata verso il suo ventesimo scudetto, questo sogno di poterlo conquistare lunedì 22 aprile nel derby contro il Milan, i conti sono assolutamente positivi perché la seconda semestrale del 2023 ha dato risultati positivi, quindi bilancio fatturato in crescita, risorse aumentate, globalmente a livello di sponsor, di marketing, di incassi da stadio, tutto è il segno positivo quindi va tutto bene, c'è però questa cosa particolare che riguarda il suo proprietario, che è Esti Venzang, che ha due ordini di problemi, Uno di carattere personale, del quale noi non ci interessiamo, sono 320 milioni di dollari che deve a una banca cinese, come stabilito anche dalla Corte d'Appello di Milano, sono aggredibili i suoi beni anche in Italia, ma questa è una questione personale, sono fatti i suoi, quello che più interessa credo ai tifosi dell'Inter, Riccardo riparto da te, sono questi 385 milioni di euro, interessi compresi, che entro il 20 maggio Zang deve a Oktri, se non dovesse pagare, o se non dovesse riuscire a ridiscutere il rinnovo del prestito, o se non ci fossero soluzioni alternative, ci sarebbe questo curioso paradosso, che non so quanto interessa ai tifosi dell'Inter, che vinci lo scudetto sotto una certa presidenza, e due settimane dopo questo presidente non è più il tuo proprietario, perché nel frattempo il fondo Oktri si è presa all'Inter. Questa è una cosa che si sapeva da tre anni, nel momento in cui è stato fatto questo prestito, io credo che molti siano attrati dal fatto che comunque l'Inter, anche grazie, come dicevi tu prima, alla partecipazione del Mondiale per Club nel 2025, potrebbe raggiungere la partita a bilancio, che sono poi i parametri, come diceva Paolo prima, che richiede l'UEFA con i famosi 7-0 agreement. Il debito è una questione chiaramente vincolata a Zang, ma sai è vero, potrebbe vincere lo scudetto Zang, Oktri potrebbe essere presente con lo scudetto sul petto, però di fatto c'erano sempre stati molti dubbi su questa operazione, è un po' sulla falsa riga di quello che è successo. Siccome si sta avvicinando questa data, e se ne parla ogni tanto sì, ogni tanto no. Però a livello sportivo conta zero. No, per amor di Dio, a livello tecnico, però no, una valutazione va fatta. Chi è la proprietà però al tifoso? Secondo me lì la garanzia è che tu a novembre hai rinnovato Marotta fino al 2027. Ma Marotta con il cambio di proprietà resta uguale? Beh, io penso che se arriva una proprietà, come dicono, se Oktri, come sembra, entra in possesso dell'Inter, diventa proprietario dell'Inter. Dicono anche che poi però vorrebbe venderla o trovare nuovi investitori. Certo, certo. Qual è il loro interesse? Avere la squadra il più competitiva possibile. E cosa fai? Acquisiscono l'Inter, buttano a mare un progetto che in questi anni ha pagato tanto, pur nelle difficoltà, cioè vuol dire butti a mare Marotta e poi non sai dove vai a scantarti. Cioè Marotta è la garanzia, almeno per una stagione, non dico che sia certo che arrivi fino al 2027, a te, però per affidarti alla continuità. Però Paolo fai due conti. E la squadra la stanno già facendo, quindi secondo me il Tifoso non è tanto preoccupato, e tutto sommato ne frega poco di chi è poi veramente la proprietà. Però fai due conti Paolo, facciamo la situazione peggiore. A maggio Oktri diventa proprietario dell'Inter. La vendita dell'Inter non sarà ad agosto, ok? No, ma posso ottenerlo un anno, due anni. E sei già al 25-26, è un attimo arrivato al 27, ti sto parlando di Marotta. Sì, sì, va bene. Anche secondo me è folle che arriva un nuovo proprietario e manda via la persona, secondo me, che sta facendo miracoli oggi. Ma poi in questo scenario, diciamo, con sicuramente le differenze del caso, ci è passato un po' anche il Milan, in un certo qual modo. Nessuno ha fatto la rivoluzione subito al primo anno. Cioè, intendo dire, è chiaro che quando entro poi subito alla proprietà di un fondo, ci sono sicuramente delle spese più stringenti, tutto e tutto una gestione diversa. Ma insomma, non è che la squadra va a gambe all'aria, nel senso... Appunto, io non... Detto questo, non c'entra niente la proprietà con quello che dicevi tu prima sulla situazione dei bilanci, perché il vero miracolo lo fa l'area tecnica. Sì, è un po' un paradosso, no? Pensare i risultati rispetto alla situazione di Bittoria. Nel momento in cui si sono chiusi i rubinetti, sono stati bravi a vendere Onana, a vendere Lukaku, a fare degli acquisti a parametro zero, a programmare comunque un futuro che già... Ogni tanto possiamo dire anche bravi agli altri. No, sto dicendo nel senso che oggi ha fatto bene Paolo dire, oggi il tifoso, mi ci metto io, il tifoso sarebbe più preoccupato di un addio di Marotta, piuttosto che di un possibile cambiamento della proprietà. Secondo me sì, assolutamente. Perché è una garanzia, ha sempre gestito le cose, è entrato a piedi uniti nell'Inter facendo una cosa molto significativa che è togliere la fascia di Capitano Riccardi, perché ci ha messo una settimana a mettere a posto il problema, e poi... No, no, però ha cominciato a pulire l'ambiente ed è arrivato alla fine, credo, con un pareggio di bilancio, con delle vendite interessanti. Poi sai, Acerbi, Mkhitaryan, tutti quei giocatori lì, il debito è un'altra roba. Sì, statisticamente ti dico, è vero, a me che sono un nostalgico della proprietà vera, questa cosa un po' da fastidio, però purtroppo cos'è, chi è l'unica società in Italia oggi che può ricapitalizzare? La Juventus. Perché comunque ha una famiglia di... Le altre, la Roma è in difficoltà, il Milan è in difficoltà. L'Inter ha avuto questo sprint dall'area tecnica, gli stadi, eccetera, non dimentichiamoci che per sfortuna ha perso la sponsorizzazione con Digital Beats, che erano altri 30 milioni, che poi bisogna vedere come vanno a finire. Però nel complesso sono stati bravi a uvattare la squadra rispetto a quello che succedeva fuori. È un po' strana questa situazione, Marcello, vincere lo scudente e cambiare di proprietà potenzialmente potrebbe succedere, visto che le date più o meno sono le stesse? Non ti sento, Marcello, aspetta. Forse non gli vado. Non so se capiterà già... Sì, ho spento il microfono. Non so se capiterà già quest'estate, non lo so. Io so che in questo momento Zanga ha chiesto di rinnovare il debito, gli è stato risposto di no, però con una clausola. Ho detto che potremmo ancora darti degli aiuti se però tu ci prometti che trovi un possibile proprietario. Però non è che lo deve trovare nel giro di 3, 4, 5, 10 anni. Lo deve trovare subito. Adesso non so, almeno nei prossimi sei mesi dovrebbe trovarlo. Adesso questo è l'accordo che è rimasto. Io francamente, per carità, adesso l'Inter si sta finanziando con i suoi soldi, che una parte sono tutti quelli che hai fatto vedere tu nella tabella, tutti i ricavi che loro hanno da stadio e tutte le altre entrate che hanno e hanno sicuramente fatto un buon lavoro da quel punto di vista lì. Però una parte sono i soldi di Zanga. Soldi di Zanga che Zanga si è fatto prestare da Occhitri. Anche perché, ricordiamoci, gli stipendi dei giocatori di Marotta, di Ausilio, di Antonello, di tutti i dipendenti li paga Zanga, non è che li paga Sor Pantalone. Quindi comunque dei soldi servono. Al momento loro sono riusciti a gestirsi grazie appunto ai soldi che incassavano loro e ai soldi che gli passava Zanga. Quanti ne ne passerà ancora Zanga? Per quanto tempo? Questo è da capire. Perché non è una situazione molto rosea. Non è una situazione che poi al stifoso fregherà niente. Però noi questi ragionamenti, che non siamo tifosi dell'Inter, li facciamo. Anche giornalisticamente parlando, se si parla tanto del debito che ha Zanga nei confronti di Occhitri, un motivo ci sarà. Oppure tutti noi scriviamo giusto per scrivere per farci i fattacidi di Zanga. Però c'è il paracadute, nel senso ha un debito Zanga, Occhitri rileva l'Inter. Molto debito, uguale credito. Però non dimentichiamoci che c'è un altro aspetto che in pochi dicono, Paolo correggimi, Zanga ha fatto una, non so se non ha furbato o comunque si è tutelato le spalle, perché dovesse abbandonare l'Inter non ci perderebbe, anzi riuscirebbe addirittura a speculare su sta cosa. Ma sono soldi che prende lui. Sì, infatti, infatti, per dirti. Per lui, dalla parte sua, perché lui si è tutelato con il brand, nel senso di dire se io esco mi devi dare la differenza del valore di mercato che oggi l'Inter, quindi per lui non sarebbe anche un dramma economico. Ricordiamo una cosa, che lui nelle trattative, i giornali finanziari che sono più bravi di noi in questo, hanno sempre scritto che lui valuta l'Inter un miliardo e duecento milioni. E fin qui però non sono arrivate proposte in tal senso, oppure no, mi ricordo che c'era un fondo che si era avvicinato, ma lui evidentemente voleva tirare al massimo, al massimo anche con la questione stadio e quindi non ha mai avuto una gran voglia di vendere. Poi adesso si sarà costretto, ovviamente, qui ci sono delle scadenze, lo farà, però io ti dico, credo che sia quasi l'ultimo dei problemi. Ovviamente viene visto con sospetto, Zhang, perché poi comunque viene da un altro mondo, è incasinato nelle sue cose, però rispetto al suo predecessore, che era il signor Toir, Toir, che tra l'altro ha fatto delle cose meravigliose. Altro grande stratega commerciale, Toir sì, perché ha prestato… Un grande speculatore lui, un grande speculatore. Toir sì, alla fine Zhang comunque soldi in prestito ce li ha messi nell'Inter. No, sicuramente, Suning ce li ha messi nell'Inter, perché nel momento in cui Suning chiudi i rubinetti, poi sei arrivato all'autofinanziamento, in più c'è da dire che adesso girano le voci e arrivano i sti domiciliari. In realtà, quando una società, io mi sono abbastanza documentato, quando una società in Cina fallisce, i soci o comunque gli amministratori delegati hanno il divieto di espratrio, ecco perché è uno dei tanti motivi per cui Zhang non può venire qua. Detto questo, lui ha messo dei soldi, lui se ne andrà, non lo so, rimarrà, comunque ha ragione Paolo, oggi io sarei più preoccupato se lasciasse Marotta rispetto nell'Inter. Sono degli scenari che a nostro malgrado ormai non ne parliamo più così raramente. C'è da dire questo, è molto legata questa cosa qui anche al fattore stadio, tra l'altro stadio che abbiamo curato anche in maniera abbastanza dettagliata. Adesso mi arrivano voci che ci sarebbe addirittura una richiesta di prova. Sappiamo che fra 27 giorni scade il... A Rozzano? Sì, tra 27 giorni scade la prelazione che l'Inter aveva chiesto alla famiglia Cavassi, proprietaria del terreno, e si sta parlando di una proroga che è strettamente legata, è un dato sostanziale anche se secondario e non c'entra niente col calcio, che a Rozzano ci sono le elezioni per il Consiglio Comunale. Tra l'altro, la garanzia dell'Inter, Antonio, è Beppe Marotta in questo momento? Sicuramente, è un dirigente forse più esperto, più saggio, che sa gestire al meglio anche queste situazioni. L'ha dimostrato proprio quest'anno, in un momento difficile e delicato, ha fatto dei colpi di mercato molto validi, mandando via giocatori esperti importanti, acquisendone qualcuno che ha parametro zero e quindi vedi che i bilanci poi dopo hanno veramente un fatto positivo, ma soprattutto c'è un fatto positivo per la squadra, per i risultati. A sostegno di questo discorso su Marotta, dopo la pubblicità, poi vedremo anche come sta nascendo la nuova Inter, perché non diciamo che è già quasi fatta, però insomma è molto 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 ben avviata la questione Inter, detto che poi per quanto riguarda la classifica penso ci sia ormai veramente poco da dire, con Fusato che ha, caro Rudy, questo sogno del 22 aprile. Ma il 22 aprile intanto non è così scontato perché dovete vincere, dipende di quanti punti arriviamo. Posso essere sincero, non me ne frega niente del record di punti, non me ne frega niente di vincere col Milan a San Siro. Faccio finta di crederti. Mi darebbe gusto, ma non mi interessa, mi spiace per… Scusami, però Fuso, premesso che ormai lo scudetto l'hai vinto, mi pare abbastanza evidente. Però ha questo sapore, sì. Dì la verità, sarebbe il non plus ultra mascherina, dai. No, sarebbe sì, sì, però alla fine mi spiacerebbe per l'amico Antonio… Scusa, tu non ti ricordi ancora se sei a zero che gli hai rifilato? Ma io borca vacca, se non lo ricordi. Mi spiacerebbe per l'amico Antonio che se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto al derby se troverà un Inter la domenica dopo, molto probabilmente più pimpante del previsto. Cioè ce n'ha per tutti, per me e per te. Quindi devi anche tifare Inter la domenica. Devo dire che però… Però se la gioca con l'Inter, non preoccuparti. Però, Rudy, lo sai come funziona la stessa. Questo TikTok è anche abbastanza entusiasmante, no? Sì, 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 ma certo. Perché vedi, ti stai gustando la festa. Eh, non fai, non fai. Il Storo sta giocando un buon calcio da alcuni mesi. Un po' bollita, eh. Adesso riesci anche a capitalizzare le occasioni che gli capitano che magari prima viceversa non riusciva a fare. Io l'ho visto molto stanchi, soprattutto avanti. Sì, però mi sembra che in questo momento è abbastanza inutile pensare a un Inter che… Cioè non ha bisogno di essere brillante l'Inter adesso. Cioè l'Inter deve portare la barca in porto. Non prendiamoci in giro. Lo scudetto è praticamente vinto. Ho dubbi sul fatto che possa vincere la San Siro col Milan. Questo sicuramente concedetevelo perché… Molto garantista tu. No, perché comunque ci sta. Non è detto. Può finire pari, è rinviato la domenica, no? Ma è un dettaglio, dai. Sì, è un dettaglio. Hai capito sempre chi dice può finire pari perché tutti gli ultimi termini hanno vinto loro. No, in realtà dice può finire pari, ma non ha fatto i calcoli che se i punti dovessero essere 17 basterebbe il compareggio. Ah beh, certo, ma vuol dire che il Milan non batte Oleccio Sassuolo. E l'Inter vince a Udine e col Cagliari. Beh, tutto può darsi. Non è che sia dell'ipotesi, no? Certo, io ho scritto oggi a Lecce. Tutto può darsi. No, vabbè, comunque è un TikTok, dai. Alla fine, credo anche meritato, poi alla fine. Ma cos'è un TikTok? È un TikTok, è un conto alla rovescia, no? Cosa devo dire? È un TikTok, è un TikTok, è un TikTok, è un TikTok, è un orologio. Sai che scambia il tempo? Ma poi magari... Ecco, allora se proprio proprio... Ma all'orologio... Il tuo faceva un TikTok. No, guarda Rudy. Tic-tac, TikTok. Se proprio proprio... Ma è una battuta. Se proprio proprio va male? Eh. Sarebbe bello vincerlo, guarda, il giorno di Juve Milan, che si bruciano punti a vicenda e io faccio festa. Hai capito? C'ha pure le richieste, Barcellone. Sappiamo cosa pensa Fusato quando è a casa. C'ha anche le richieste, c'ha anche i pruriti che gli stuzzica la vittoria, hai capito? No, sono contento che... L'unica cosa che mi darebbe fastidio è se riuscissero a fare i 102 punti, quello mi darebbe un po' fastidio. Sono contento perché c'è una programmazione, dopo magari ne parleremo, ma l'Inter di fatto è già avanti rispetto alle altre, rispetto al mercato della prossima stagione. Ah beh, certo, questo... Questo è perché Marotta è una garanzia per l'Inter. Sì, ricordati Napoli l'anno scorso. Dopo la pubblicità vi facciamo vedere tutto. Nel frattempo è finita anche l'altra semifinale di Coppa Italia, la Fiorentina ha battuto l'Atalanta 1-0, un'Atalanta tutt'altro che brillante, quella che abbiamo visto al Franchi. Una bella Fiorentina, Atalanta salvata almeno due volte da uno strepitoso Carnesecchi. Sai che meritava veramente di fare almeno 2-0 la Fiorentina, almeno 2-0. Io ho visto fare una parata Carnesecchi stasera che secondo me sarà una delle parate dell'anno. Ma ne ha fatte due clamorose. Sì, ma quella con la punta di vita secondo me sarà una delle parate dell'anno. Sì, quella strepitosa. Quindi diciamo che se la Juventus ha la strada quasi spianata al ritorno all'Olimpico con la Lazio, tra l'Atalanta e Fiorentina con il ritorno a Bergamo è un po' più da discutere. L'Atalanta ha la forza per ribaltare. E non dimentichiamo che l'accesso alla finale di una di queste due squadre consentirebbe l'accesso alle Final Four di Supercoppa l'anno prossimo. Assolutamente sì. C'è da dire che l'Atalanta, anche se è attesa da un periodo piuttosto corposo dal punto di vista degli impegni, perché a proposito di calendari e di situazioni, anche l'Atalanta ha un calendario abbastanza complesso. E se sappiamo e abbiamo visto che l'Atalanta quando è stata impegnata una volta alla settimana ha giocato un certo tipo di calcio. Antonio, le notazioni non tutti possono averle dello stesso livello. Certo, anche perché giocando tre partite a settimana il recupero è difficilissimo. E se tu non hai i ricambi giusti sicuramente sei penalizzato. E anche che tipo di partite, perché giocare con il Liverpool di oggi non è la partita infrasettimanale col Braga piuttosto che... Quindi ti frega una certa dose di energia. E in campionato non puoi permetterti dei passi falsi. Cioè, mentre il Milan per dire... Sì, certo, devi stare... Un punto qui, un punto là potrebbe anche perderlo per strada, perché magari sta pensando all'Europa League con la Roma. E l'Atalanta deve continuare a battere il chiodo anche in campionato, visto che se vuole arrivare in Champions deve far punti, perché è un pochino indietro, no? Sì, certo, assolutamente. Perché poi la guerra lì per il quarto, quinto, sesto posto è veramente entusiasmante quest'anno. In tutto questo... Fino alla fine sarà così. Tra un paio di settimane, credo, una volta fatti i quarti di finale, potremmo avere le idee più chiare anche per quanto riguarda il famoso quinto posto, perché potrebbe già diventare anche ufficiale, teoricamente, no, Marcello? Quindi l'idea è che possa esserci una lotta aperta per il quinto posto, va ad infiammare il finale di campionato. Assolutamente. Ah, sicuro. Secondo me il quinto posto se lo giocano prevalentemente Roma e Atalanta. Poi se la Juve dovesse ancora continuare nel suo declino, che abbiamo visto finora, con quella media da retrocessione, allora il quinto posto diventerebbe una lotta a tre. Ma io mi auguro di no, ecco, che la Juve almeno quarta ci arrivi tranquilla, tranquilla, potrei dire però, insomma, che ci arrivi senza dover rischiare il quinto posto. Però il quinto lo vedo proprio tra Roma e Atalanta, non vedo possibilità per altri di inserirsi. Allora, dai per certo il Bologna. La parida importante è la prossima. No, io il Bologna lo do terzo. Se vince con la Fiorentina, la Juventus, il quarto la Juve? Sì, no, poi dipende, come diceva adesso Antonio, se vince con la Fiorentina, beh, allora a quel punto ti tiene a distanza dal Bologna. Assolutamente. E allora magari incominci a fare i punti utili per prenderti questa qualificazione in Champions con anticipo. Dipende tanto dalla risposta che dà la Juve domenica. E' oro colato il pareggio della Roma-Lecchia. E' un bel segnale, perché arrivava da un po' di partite che non giocava così, la partita è stata bella. Per quanto il gol è stata una soluzione insomma da fuori, però ha avuto occasioni per portarsi anche sul 2-0. Cioè ha giocato molto bene la partita. Io non pensavo. Comunque alla Juve è stato oro colato, adesso non per sparare sulla croce rossa, ma il pareggio della Roma-Lecchia ha sicuramente dato una mano. Sì sì, sì sì. Perché a portare 3 punti anche la Roma sarebbe stato complicato. Anche perché devi andare a giocare a Roma, quindi. Ragazzi prendiamoci due minuti, a rientro parliamo ancora di Inter. Vi facciamo vedere come si sta muovendo, visto che abbiamo tessuto le lodi di Beppe Marotta. Beh andiamo a vedere come si sta muovendo l'Inter. Pensate, l'Inter sta già pensando e programmando una squadra doppia. Cioè doppi campioni in tutti i ruoli per la prossima stagione. Ve la mostriamo in grafica. Allora, il nostro titolo parla di un'Inter doppia. Che cosa significa? Significa che Marotta sta cercando di attrezzare una squadra in grado di garantire e di dare l'opportunità a Simone Inzaghi praticamente di fare delle rotazioni più o meno tutte dello stesso livello, grosso modo, in tutti i reparti del campo. In realtà voi sapete già che Taremi e Zielinski arriveranno a parametro zero. Ci sono altre trattative in essere. Andiamo a leggere insieme quella che sarebbe l'Inter doppia. Perché di fatto, guardate che lavoro capillare che sta facendo Beppe Marotta. In bianco ovviamente gli attuali titolari. In giallo tutte le possibili alternative tali da farci dire che tutto sommato, quando anche giocasse la squadra solo in giallo, insomma il livello rimarrebbe parecchio alto. Credo che il valore di un club che programmi, Paolo, sia esattamente questo. Sì, ma io penso che potrebbe arrivare anche un portiere. Io penso che potrebbe arrivare anche un nuovo portiere. Per esempio questa cosa di Bento dell'Atletico Paranaense va seguita. Chiaramente non ha le cifre che chiedono i brasiliani. Lui comunque ha mercato in giro, però è un giocatore che seguono da tanto tempo. E non lo so, c'è anche un'ipotesi di un ritorno di Di Gregorio, un po' meno attuale di quella di Bento. Però sicuramente è coermoso, è in scadenza di contratto con l'Atletico. E sono tutte cose molto concrete, anche perché molti giocatori ce li hai. C'è anche la conferma che vogliono prendere un quarto, un nuovo attaccante. Io non sono così ottimista su Gudmundson, perché comunque ha una quadrazione molto alta. Ricordiamo che lo vogliono vendere sui 40 milioni, non so se rientro un po' nei budget dell'Inter. È vero che con Carboni, se continui nella filosofia di vendere i giovani, potresti comunque prendere un po' di soldi. Però potrebbe anche fermarsi Carboni, insomma. Però è vero, stanno costruendo questa doppia squadra. Ad oggi secondo me il più rischio di tutti questi è Dunfris. E Dunfris che non ha rinnovato. Sì, poi naturalmente togliamo dalla grafica questo Dunfris, vai a metterci eventualmente qualcun altro. No, no, però diciamo a livello economico potrebbe esserci un'intrata anche da partire. Però effettivamente, Antonio, quando si dice saper programmare, saper vedere in prospettiva futura, significa fare questa cosa qua? Assolutamente sì. Credo che è doveroso da parte di un manager, di un direttore sportivo, direttore generale di una società, cercare di fare questo lavoro. In Italia ci sono sicuramente dei bravissimi manager, tra cui uno dei più in assoluto è proprio Marotta. Quindi sicuramente farà una squadra importante, una doppia squadra, perché quando fai 60-65 partite all'anno, se non è la doppia squadra è diventata veramente difficile la gestione. Anche se poi conterà molto ancora l'alchimia all'interno della squadra. Non è detto che se tu hai tanti campioni vincerai di sicuro. Ricordiamoci il Real dei Galattici, per dire. Però è anche una cosa legata agli infortuni, che non si possono escludere. Quindi ormai è quasi una necessità di un team come l'Inter, che si gioca ormai la Champions, si gioca lo Scudetto. Però Rudi, qua ne metti di fatto nei 16-4. È molto sull'attacco. La spina dorsale ce l'hai. L'ipotesi Bento è più che altro rivalutata al dopo Sommer, perché in realtà Udero è un buonissimo 12. Adesso per carità, però Bento secondo me è in prospettiva. L'anno prossimo però ci sarà una competitività anche da parte di altre due o tre squadre sicuramente maggiore. No, sicuramente. Quindi sarà un campionato forse più bello da vedere. Però hai ragione tu. Le 60 partite, che di solito gioca una squadra che è comunque competitiva, l'anno prossimo saranno diverse, perché tu avrai la Champions al giovedì, ad esempio, che quest'anno... Beh, non sempre. Sì, però avrai delle partite al giovedì. Hai il mondiale per il club che di fatto bisogna capire cosa succede, perché o ti bruci la preparazione per l'anno dopo o devi fare una preparazione già a maggio per essere competitivo lì. Ma a maggior ragione hai bisogno di più giocatori. No, no, certo. Hai altri due problemi che salteranno fuori. Preparatevi dopo lo scudetto, quando non si potrà parlare più bene dell'Inter, butto la bomba, la questione nazionale con le Olimpiade. Perché questo è un problema che verrà fuori, perché ho già sentito che ad esempio Lautaro vorrebbe fare le Olimpiadi, per esempio. E questo a livello gestionale... E questo sarà un problema del club, però... Eh, non lo so, però poi vedrai che salta fuori. Adesso Lautaro non rinnova perché vuol fare le Olimpiadi. Qualche giocatore avrà val di pancia, dice. Se lui vuole fare le Olimpiadi e la Nazionale Olimpiadi lo provocava a fare l'Olimpiadi. Però per il club diventa un problema. Certo. Però non è che glielo può impedire di... Beh, insomma, non lo so. Qui bisognerà fare una grande diplomazia. Vuol dire che di fatto Lautaro non fa vacanze per due anni. Per esempio. Non sto... Si consolerà quando andrà a guardare l'estrato conto. Cosa possiamo fare per ovviare questo problema di Lautaro? Cerco la polemica, Paolo, ma... E' un problema che salta fuori. Mi sembra una cosa... Ci teniamo la polemica in tasca e la usiamo a tempo di... E' una cosa che salta fuori. Mi sembra un po' prestito. E' un po' prestito. Ci sono ancora un po' di cose da dire. Marcello è in diretta. Che doppia Inter sta studiando il tuo Beppe Marotta. Che vorresti tanto tornasse alla Juve. Io vorrei che tornasse tanto alla Juve. Io? No? Domando, eh. Boh, francamente, cioè, io so che... Mi sembra che l'avesse detto anche Brambatti una volta che... Quando c'è stato qui in trasmissione che c'era stato un contatto tra Elkan e Marotta. Sì, ma di fatto anche lui ha specificato che questo non prevedeva che Marotta tornasse alla Juve. Magari è solo un desiderio di Elkan che però è irrealizzabile. Finora comunque ha fatto bene Marotta all'Inter e continuerà a fare bene. Non mi stupisco che lui voglia costruire una squadra sempre più forte. Ma a te dispiace che sia andato via Marcello o no? Beh, un po' sì, per il semplice motivo che con i dirigenti che ho avuto poi dopo, francamente, non è che... E se non è che voglio disprezzare in toto i dirigenti che ci sono adesso alla Juventus, però sono dirigenti che di calcio capiscono poco, ma non perché sono ignoranti di calcio, perché sono esperti, molto esperti, in altre materie. Cioè noi abbiamo un presidente che fa l'avvocato e un direttore generale che fa il direttore Marcello, che è esperto in marketing, quindi col calcio ci azzeccano poco. Quindi io vorrei vedere invece alla Juventus dei dirigenti che sappiano, che masticano bene la materia. Per fortuna è arrivato almeno Giuntoli. Per fortuna è arrivato almeno Giuntoli. Anche se è un bravo dirigente è quello che sbaglia meno al giorno d'oggi, non è quello che non sbaglia mai. Perché poi i risultati, adesso faccio l'avvocato del diavolo, i risultati ti danno una mano, ma la gestione Skriniar-Lukaku non è stata delle migliori, se proprio vuoi andare a vedere... Skriniar è andato via a zero, no? Beh, è andato via a zero perché comunque fai una strategia che lo perdi. In un'altra società, guarda cosa è successo al Milan con Ciolanoglu, se non si incastrano diverse cose, se non esplode Mkhitaryan, se non esplode Acevi, poi alla fine dice, però io passo a Skriniar a zero. Cioè, bisogna essere anche onesti nel dire che sei stato spiazzato con Lukaku, che di fatto ti ha penalizzato, perché parlavamo prima, oggi l'attacco dell'Inter come Rosa è inferiore a quello della Juve, come sul campo. Chi? L'attacco dell'Inter oggi come numeri, cioè come giocatori e come alternative, di fatto oggi, a fine marzo, è più debole dell'Inter, perché l'Inter ne ha due e un pezzo. Se non è più debole, cioè voglio dire, quantomeno stanno da pari, perché potenzialmente Chiesa e Vraovic possono valere l'Altaro. Sì, però l'Inter non ha Ken e non ha Milik. E non ha il Litz. E oggi ha avuto Arnauto, ci partirebbe sempre fuori. E Sanchez che ha giocato adesso due partite. Ma adesso Ken è che c'è... Però comunque è un giocatore che è un nazionale, no, volendo vedere. Ma va bene, appunto, appunto. 30 milioni l'hai ripagato. Io sto dicendo che... 30 milioni l'hai ripagato, Marcello. Però io non sto facendo Inter Juve. Io sto dicendo che la strategia Lukaku poteva pesare in una stagione. Tutto qua. Perché se non ti esplode... C'è nel senso che quando parlavamo dei nazionali, no? Eh, Ken è un nazionale. Cioè, quanto vale Ken, obiettivamente? Adesso è un giocatore che aumenta... Vabbè, però è uno dei pochi nazionali. 30 milioni l'ha pagato. Eh, tanto. E l'ha preso in chiusura di mercato. È stato un acquisto. In chiusura di mercato. Sì, ma sono stati dei soldi buttati. I soldi buttati. Detto questo, Paolo, volevo tornare con te sul discorso Gudmundson. È un discorso presentamente economico? Cioè, il fatto che l'Inter non voglia investire quei 40 milioni che vengono chiesti dal Genoa o c'è margine per lavorarci inserendo... No, secondo me ci proveranno a lavorare. Ci proveranno, secondo me. Non è che si sono arresi. Sarebbe un gran colpo, eh? Ah, beh, certamente. Certamente. Poi lì avresti davvero un'alternativa a Teoram di altissimo livello, no? Perché poi, comunque... Cioè, Girardini in piccolo a volte ripropone un calcio così verticale, no? Sì, sì. Di Braheco un po' alla Simone Inzaghi. No, beh, lì bisogna vedere se... Beh, intanto sai, in queste trattative Antonio forse lo sa meglio di tutti noi, no? Cioè, è vero, ci sono delle valutazioni del club che vende, un po' la volontà del giocatore conta, quindi bisogna vedere anche quanto Gudmundson spinga per restare in Italia oppure non gliene ne freghi niente e voglia andare in Premier, dove sicuramente è più facilmente vendibile alle cifre del Genoa. Se però si mette in mezzo e pensa di avere qualcosa da dare con l'Inter, sai, magari poi conduce il suo club a un ragionamento con qualche contropartita oppure magari un pagamento cioè non subito magari, no? spalmato, cose del genere, ci potrebbero pensare. Poi, secondo me, davvero dipenderà che mercato farà in uscita l'Inter, se farà un certo tipo di mercato. Il primo in uscita potrebbe essere Dunfriss? Potenzialmente sì, però Dunfriss è due stagioni che è sul mercato, ma poi alla fine no, non... Però quest'anno... Però scada nel 25, lui, vero? Sbaglio? 25. Non guardare, penso di sì. Sì, però siccome è l'unico che non rinnova di quelli papabili... Per quello che dico, mi ricordavo questa cosa della scadenza nel 25 che sarebbe l'ultimo anno per poterlo vendere... Ma a richieste dove va? A richieste? No, in Inghilterra ha delle richieste, è chiaro che non puoi fare 40 milioni, però 20-25 secondo me te li danno. Piazza. Quindi se ci può lavorare l'Inter su Gudmundson, anche la Juve può lavorare su Comainers. No, riepriamo... 25 milioni. 25 milioni, perché si fai lavorare le cose addosso. Come l'Inter può vendere Dunfriss, Dunfriss, chiamiamolo come vogliamo, all'estero e farci un bel gruzzoletto, la Juve può vendere sulle house. No, no, ma sulle compravendite, per carità, i conti sono presto fatti. E che li vende all'Atalanta, che ci sono grossi dubbi. Non che non li venda. Certo che li vende. Però con Comainers può trattarlo, no? Come fa l'Inter con il Geno per Gudmundson. Sì, sì, sì. Secondo me sono tutti trattabili e vendibili. Se arriva un'offerta di 20 milioni per carboni, l'Inter ne parla? Cioè, come ha fatto con Casadei, che sembrava finire l'Inter. Casadei, quanto ha preso l'Inter? No, non sembrava finire l'Inter. Però era una perdita, ah, come fai a vendere un... Però questa politica di questi anni, poi tu dici, ha portato i risultati. No, no, Casadei del Chelsea, gioca in Premiership, gioca all'Eister. No, vabbè ragazzi, ma stiamo parlando di un 2003, non è che devi snobbarlo. Dov'è, dov'è, dov'è finito? No, però, sembrava il nuovo... Beh, sembrava, magari lo sanno, però. Quest'anno ha vinto, è normale che sia proprio così. Cioè, come sembrava, caspita, eh. Una mezzana coi fiocchi, eh. Oggi, te ne arrivano 25 milioni, 19 anni. Anche il 2005, come... Toglio, stavo dicendo, che stai oggi. Te arrivano 25 milioni per un giovane promettente, ci siedi e ne parli, capito? Quindi, adesso neanche Marcello... Ma anche se te ne arrivano 80 per Barella, ne parli, eh? Ma anche 70, secondo me. Eh, cioè, voglio dire, potenzialmente... Poi, magari il giocatore vuole rimanere all'Inter, tutto quello che vuoi. Ma questo vale per tutti, eh. Però, nel senso, purtroppo, lo diciamo sempre, siamo un campionato un po' di passaggio. Ah, ecco, allora, l'Inter... Un punto di riferimento, adesso no. Domani mattina arrivano 80 milioni per Magnan. Ma è sicuro, non stai scherzando. Assolutamente. Piuttosto che Teo Hernández. Certo. Comunque l'Inter deve passare, in ogni caso, attraverso due rinnovi. Barella e Lautaro, che, insomma, non hanno ancora rinnovato. Ci sarà un accordo di massima, però non sono state ancora annunciate. Poi, in più Lautaro va all'Olimpiade. Sì, allora. Ma quello sarà un problema. Sì, sì. Penso che, guarda, nel calendario sarà il problema. Allora, nel momento in cui Lautaro alza la Coppa dello Scudetto, inizieranno le polemiche sull'Olimpiade. Questo ve lo metto per iscritto. Ma chi ne fa? Chi ne fa? Vedrai, vedrai. Ma chi ne fa? Ma L'Umori non rinnova perché va all'Olimpiade, come Manon ha rinnovato prima, adesso che Barella ci pensa perché va via Lautaro. Ma quella c'è ta rinnova con l'Olimpiade. Posso fare il veggente? Cento nei dieci milioni che chiede. Posso fare il veggente? Posso, è una di quelle cose che se Turam e Lautaro venissero convocati, gli venisse chiesta la disponibilità per partecipare alle Olimpiadi e loro decidessero di andarci, lì c'è poco da giocare di diplomazia. Se i due giocatori vogliono andare a difendere i colori del proprio paese in un evento così particolare come l'Olimpiade… Sì, ma per tutti i club che hanno giocatori internazionali, mica solo per l'Inter che c'entra, che visione ha. Cioè so che tu egoisticamente non vorresti mandarseli alle Olimpiade e capisco anche il motivo e mi sembra più che legittimo, però di fronte a una cosa del genere… Le Olimpiadi finiscono il primo di agosto, cos'è? Il primo o il secondo agosto, il primo o il due, l'uno o il due, il 17 ce la puoi… Ma no, ma no, vanno avanti fino al… no, un bel po' le Olimpiadi. Il 17 agosto ce la prima di campionato, vediamo. Eh vabbè… Ma le Olimpiadi, scusami, adesso controllo le date… Inizierai con… Taremi Carboni oggi. Esatto, Taremi Carboni. Taremi Carboni. O Taremi… Adesso vado a vedere se l'Ira… O Taremi Arnauto, invece, non lo so. Lo so, io… Questa cosa qua… C'è una cosa… C'è un fondo di realtà che devo dire, questa cosa, questa illuminazione, questa info, mi arriva e indovina da chi sul telefono. L'11 agosto finisce. Indovina? Il 23 è la prima di Serie A. Cioè, dire una cosa, che adesso la dico e poi dico chi me l'ha detta… No, perché le Olimpiadi non sono partite FIFA. Io punto su Borrelli. E in teoria all'Inter… Può rifiutarsi. Può dire di no. Punto su Borrelli il mio gettone. Michele Borrelli, che è sempre attento sul pezzo, mi ha scritto… E mi ha scritto, ma la verità è vero. E mi ha scritto. Portavoce di Borrelli tutte le serie… No, però… E però, è vero, non c'è mai mangiare su una pizza… Anzi, lo ringraziamo, ma è una specifica corretta. Lo ringraziamo, e io sono contento di essere il suo portavoce, perché non è la prima volta. E allora, secondo te, non è un problema questo? Detto questo, l'Inter può rifiutarsi, mi sembrerebbe… Sì, ma vai ad aprire un contenzioso con la federazione… Ma Borrelli fa la piccola vedetta lombarda. Che sente già profumo di polemica. E però, allora mancava quell'informazione. No, certo, ma io sento l'Inter. Io sento puzza, quando grigliano, io la sento lontana. Però sono una cosa, ragione, abusato. Abusato. Perché, cioè, lui dice, oh, tu puoi benissimo anche impedigli, no? Di andare a fare questa competizione, come dice il portavoce di Borrelli. Ah, grazie. Però, se Lautaro, se Lautaro si gli girano, incomincia a dire, eh, beh, allora io non ti firmo il contratto, vedi che allora ci vede lungo, abusato. Bravo, bravo. La finale dei mondiali di calcio è il 10 agosto, il campionato inizia il 23. Io ci tengo.